. Fabrizio Frizzi, lo straziante messaggio della moglie di Carlo Conte a Carlotta Mantovan, una grande donna. Dalla morte di Fabrizio Frizzi è passata una settimana. . La commozione e il dolore, però, sono ancora qui, ben presenti, ogni ora e ogni secondo. E adesso, alla moglie del conduttore scomparso, arriva una nuova dedica speciale, quella della compagna di Carlo Conti, Francesca Vaccaro, che ha voluto far sentire a Carlotta Mantovan e alla piccola stella tutta la sua vicinanza. . Il messaggio è arrivato su Instagram, dove la Vaccaro ha postato la foto di un cuore e il messaggio. . In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio.Conforto di tutti noi. . Carlotta ti voglio bene, ha concluso. . 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